Benvenuti cari telespettatori. Benvenuti cari telespettatori e cari telespettatrici di Rossini TV per questa nuova edizione del Vallefoglia e Pian del Bruscolo Magazine, l'unico approfondimento sul territorio di Vallefoglia e i comuni limitrofi. Prima di incominciare però vi ricordo di inviarci le vostre segnalazioni al numero che vedete in sovraimpressione oppure all'email vallefoglia-rossinitv.it. Vallefoglia e Pian del Bruscolo Magazine che apriamo parlando di come i ristoranti si stanno preparando in vista della Pasqua. Quanti prenotati hanno ma soprattutto quali saranno i menù? Vediamo. Pasqua si avvicina, come stanno andando le prenotazioni? Per Pasqua la sala è piena, abbiamo circa 120 persone e abbiamo pensato ad un menù tradizionale. Le festività richiedono le tradizioni, quindi piatti locali del posto, antipasti misti, caldi e freddi. Abbiamo, non possono mancare i cappelletti in brodo, quelli della nonna, abbiamo poi dei ravioli con funghi e salsiccia. Ci sono il lanielo al forno, il coniglio in porchetta, un'arista di maiale al forno in salsa, i contorni, i vari patate al forno, in serata mista e poi per concludere un buon dessert di Pasqua. Si arriva quindi alla stagione anche estiva, quella primaverile, quindi ci sarà spazio anche fuori e i clienti potranno stare anche fuori, non solamente dentro. Sì, infatti i clienti staranno anche fuori, quindi crea anche spazio in sala e questo ci fa piacere. Allora, al momento siamo abbastanza pieni, quindi la gente si è avviata comunque molto tardi rispetto agli altri anni, che noi due mesi già prima eravamo già pieni e invece abbiamo riscontrato che nei ultimi giorni hanno prenotato, quindi siamo abbastanza soddisfatti, insomma. E invece il vostro menù, cosa presenta, alcune particolarità o andate più sul tradizionale? Andiamo sul classico, antipasti, quattro voci, bis di primi e secondi, comunque a base di agnello, insomma, quindi la base è quella lì. Siamo quasi al limite, ci rimane due o tre tavoli da riempire, perciò diciamo che siamo soddisfatti. Diciamo che abbiamo fatto un mix di un menù fisso a 40 euro, dove abbiamo mischiato i nostri prodotti con i tipici piatti del Pasquale. Diciamo che nell'antipasto abbiamo messo i salumi nostrani e dell'azienda, pecorino del Montefeltro e i soliti crostini fatti col pane in casa nostro. Poi, di primi, abbiamo fatto le tagliatelle rosse con il cinghiale e le lasagne bianche con le verdure di stagione. Nel secondo piatto, anche qui, siamo andati sulla tradizione, il famoso castrato alla brace e la pasticciata alla pesarese, con contorni di patate ma principalmente di erba di campagna. Anche col dolce siamo andati un po' sul, diciamo, tradizionale perché facciamo la colomba con il mascarpone. E venerdì scorso si è spento all'età di 87 anni Don Giuseppe Signoretti, ex parroco di San Michele Arcangelo in Monte Gaudo di Monte Ciccardo e amministratore parrocchiale della parrocchia di San Giovanni Battista in Babucce di Tavuglia. Un uomo di chiese e di conti perché con l'incarico di economo diocesano aveva sempre avuto a che fare con i beni della chiesa, compito ingrato e non facile. Il 28 giugno 1959 era stato ordinato sacerdote, mentre nel 2019 era stato ricevuto da Papa Francesco in occasione del sessantesimo di sacerdozio. Una perdita importante per il territorio di Tavuglia, espressa anche dalle parole del sindaco Francesca Paolucci sulla sua pagina Facebook, la quale si unisce al dolore della famiglia porgendo le condoglianze. E dopo due anni di stop forzati dalla pandemia è stato approvato il programma della 43esima edizione della mostra del libro per ragazzi. La tradizionale iniziativa si terrà nel periodo dal 7 al 14 di maggio 2022 presso il Palafoglia Sesto Ondedei. La nuova palestra sorta presso il polo scolastico di Bottega. La 43esima edizione della mostra del libro è intitolata Gianni Rodari, in occasione dei 100 più 2 anni dall'anniversario della nascita del maestro della fantasia, che nelle sue storie, favole e poesie ha affrontato la tematica di uguaglianza, solidarietà, pace, comunità, dialogo, tolleranza e rispetto. Iniziative culturali che alla Torre dell'Arte di Sant'Angelo in Lizzo la proseguono, perché dopo l'evento del 12 marzo, incentrato sul paesaggio attorno alla cinta muraria del castello di Sant'Angelo, sono in programma altri due eventi che si terranno in diverse giornate nei mesi di aprile e maggio. Ieri, giovedì 14 aprile, si è tenuto il secondo dei quattro incontri previsto nei giovedì del mese di aprile, dedicato agli studiosi a cui piace intrattenersi sfogliando libri d'arte che riguardano la storia e la cultura del territorio di Vallefoglia. Le altre date di apertura sono quelle del 21 e 28 aprile, con orario previsto dalle ore 15 e 30 alle ore 19. Altra iniziativa concernente più direttamente l'arte contemporanea sarà articolata su cinque incontri, dove si approfondiranno cinque distinti temi previsti nelle date del 20-27 aprile e del 4-11-18 maggio 2022. Ed ora spazio ad una bella notizia che è coinvolta in questo periodo gli anziani del nostro territorio, o meglio i longevi, come ama chiamarli la fattoria del borgo di Montefabri, che ha coordinato il progetto di agricoltura sociale che ci viene illustrato in questa intervista. Un progetto che va avanti dal 2014, un progetto di agricoltura sociale Marche, dove sono coinvolte le persone longevi del territorio, sono circa 25 persone che abitano nel nostro comune, con quale facciamo diverse attività che sono finalizzate a rivalutare un attimo tutte le capacità, dare opportunità alle persone anziane del territorio di rivivere dei momenti di piacere, i momenti dove possono imparare le cose, dove possono condividere quello che sanno fare e condividere anche i loro ricordi, le loro conoscenze. Noi abbiamo pensato che potrebbe essere molto interessante insieme a loro costruire un percorso dove loro riescono a sistemare e mettere insieme i ricordi della loro vita, delle loro esperienze, delle loro emozioni. Insieme a Cristina Ortolani, che ci ha aiutato in questo percorso, abbiamo fatto 12 incontri, partendo da una semplice chiacchierata dicendo dove abitava chi. Abbiamo fatto proprio tutto un percorso sul ricordo legato a un oggetto, un cibo, una situazione oppure il momento che è stato vissuto, il momento emozionante e abbiamo imparato anche di sistemarle, metterle insieme questi ricordi, di dargli una forma e cucire un bel vestito ai ricordi che loro presentavano. Sabato 9 aprile abbiamo fatto una festa finale dove i nostri longevi hanno presentato tutto il lavoro che è stato fatto in questi mesi e abbiamo fatto una fiera dei ricordi dove molti di loro hanno fatto una specie di bancarella di ricordi e hanno condiviso con le persone, hanno condiviso quello che loro volevano raccontare dai lavori manuali che potrebbero essere un ponto croce, un lavoro a uccinetto, dai lavori semplici per creare degli oggetti, i cosiddetti gioielli con materiali semplici che possono essere i fiori, le piante che si trovano attorno. Ed è stato molto bello perché abbiamo cercato anche di coinvolgere i ragazzi giovani e i tentenni del territorio in modo tale che il momento di ricordo veniva condiviso anche con chi poi potrebbe portare avanti questa conoscenza, le curiosità e questa memoria. E a Morciola è stato inaugurato il nuovo camminamento pedonale in Piazza Europa a fianco della palestra comunale. L'intervento ha comportato una spesa di oltre 20 mila euro ed è consistito nel rifacimento del vecchio camminamento ammalorato diventato ormai pericoloso. È stata prevista anche la predisposizione di nuovi basamenti per l'installazione di una nuova linea di illuminazione pubblica che verrà successivamente posizionata. Il percorso è stato realizzato per migliorare la sicurezza pedonale e il decoro urbano dell'area interessata con una nuova pavimentazione dotata di apposite piastrelle antiscivolo, tattili rigate per agevolare il cammino dei non vedenti o ipovedenti. Presenti al taglio del nastro il vice sindaco Barbara Torcolacci, gli assessori ghiselli, gattoni e calzolari, oltre ad una rappresentanza di cittadini residenti e i dirigenti della ditta esecutrice dei lavori. E a Vallefoglia riprendono i lavori di asfaltatura delle strade comunali. Si inizierà dalla zona di via Serra di Genga Coldelce, dove la ditta paltatrice, il Consorzio di Sant'Arcangelo di Romagna, procederà con il rifacimento del nuovo manto stradale. A seguire nell'ordine ci si trasferirà nella frazione di Montecchio e in particolare in via dei Cipressi, la strada che conduce al cimitero per poi proseguire in via Romana e via Mozart, pista ciclabile. Nei prossimi giorni saranno interessate dall'intervento tutte le restanti strade comunali incluse nel progetto annuale di rifacimento delle asfaltature, tra le quali a Bottega, via della Libertà e parcheggio circolo, a Morciola, via Raffaello Sanzio, via Morciola, pista ciclabile dietro il campo sportivo di calcio insintetico e via Mulino Ruggeri. A Sant'Angelo in Lizzola si interverrà in via Brasco, via Montali, via Monte Calvello e via Torre, a Colbordolo via dell'Arco e via del Comune, a Talacchio via del Fabbro per concludere con Cagolino, Coldazzo e Forquini con via Montegherardo. E in occasione del 25 di aprile per la festa della liberazione, l'amministrazione comunale di Gradara in collaborazione con Ampi, Gabice e Gradara Tavuglia, renderà omaggio alle partigiane del territorio. Un momento di raccoglimento che si svolgerà venerdì 22 aprile alle ore 21 nel teatro comunale di Gradara dove verranno condivise letture, memorie e interviste. E a poco più di due settimane dalla matematica salvezza ottenuta dalla Megabox Vallefoglia, il presidente Ivano Angeli, oltre alle belle parole spese per le sue ragazze, ha parlato anche di progetti futuri. Sentiamo. La soddisfazione è immensa perché era quello che volevamo. Anche il fatto di aver avuto la salvezza con una giornata di anticipo, visto la situazione che si stava delineando, un pochino drammatica, è stata una grossa soddisfazione perché se questo obiettivo non veniva colto a Roma, venire a Urbino a giocare l'ultima partita e con la necessità di avere i punti per salvarsi, penso che non era una bella situazione. Siamo molto contenti comunque. E a Urbino c'è stata una bella festa, vi siete divertiti, è stato importante festeggiare anche con i tifosi. In questo tempo, diciamo, in questo periodo in cui si esce dalla pandemia, ritrovare i tifosi, ritrovare questa atmosfera è sempre piacevole. Certamente sì, abbiamo cercato di fare il minimo dispensabile in questa situazione di pandemia, quindi non è che si potevano fare cose in grande, comunque i tifosi c'erano e quindi è stata una bella festa. Mi dispiace che mentre noi giochiamo c'era qualcuno che, l'altra squadra, che non era della stessa situazione perché comunque noi li abbiamo condannati alla recessione, ma lo sport è anche questo. Ecco, coach Buonafede l'ho sentito due settimane fa, mi ha detto che le ambizioni per il futuro sono queste, ovvero quello che la Megabox il prossimo anno può fare uno step in più, ovvero quello di salvarsi più tranquillamente e poi ambire anche magari i play-off. Ecco, lo chiedo a lei, è questa l'ambizione vostra e se è questa come potrebbe essere migliorata la squadra? Quali tasselli potrebbero essere migliorati? Sicuramente quello che ha detto il coach Buonafede è la verità, perché noi vogliamo ripetere un anno, anche se è stato sotto ogni profilo quello che cercavamo. Quest'anno, per la prossima stagione, vogliamo fare un campionato con una tranquillità di salvezza da raggiungere qualche giornata prima, puntare ai play-off e questa è la nostra ambizione. Poi ai play-off si può arrivare all'ottavo, si può arrivare al settimo, al sesto, ecco, quello è il nostro range, magari anche quinti, ecco, quello è il nostro range, noi possiamo pensare di arrivare tra i primi quattro. Quindi, però, la squadra la stiamo impostando, diciamo, per queste ambizioni qui, ecco. C'è la questione Palazzetto, sembra che la Giunta Comunale abbia approvato questo via libera per un possibile finanziamento dell'ampliamento del Paladionigi. È un, diciamo, un aspetto importante per voi, per la città di Vallefoglia, il fatto di poter assistere magari in futuro, non dal prossimo anno, ma la propria squadra qui a Montecchio di Vallefoglia? Beh, sarebbe, diciamo, la nostra ambizione, anche se io sono molto pessimista sulle tempistiche, perché secondo me, ecco, non sono cose che si possono raggiungere a breve termine. Secondo me qualche anno già sarei molto contento, ecco. Però, ecco, un passettino l'ha fatto anche la Giunta, ecco, quindi la Giunta Comunale. Quindi noi siamo fiduciosi che comunque anche questo segnale che siamo andati vuol dire che c'è attenzione nei confronti della nostra società, perché comunque penso di aver dato un po' di immagine, di notorietà al Comune di Vallefoglio, ecco, a livello nazionale. Quindi questo penso che la riconoscenza poi da parte della Giunta Comunale sia, lo dico, dovuta. Però ecco, sono contento di questo inizio di un percorso. E la città di Vallefoglia si contraddistingue ancora in ambito sportivo. La squadra di biliardo Morciola Sporting Colbordo lo si è classificata prima nel campionato provinciale 2021-2022 di biliardo di categoria C. La squadra, guidata dal capitano Amadori Saverio, risulta composta dai seguenti giocatori. Aurelio Alessandro, Gambini Maurizio, Graziano Vincenzo Maria, Lunghi Mauro, Molinari Enrico, Montesi Marino, Sanchini Elvezio, Sordoni Danilo, Stolzini Anteo, Vedovi Maurizio, Vicky Daniele, Vicky Luigi e Volponi Giuliano. Un importante risultato raggiunto che inorgoglisce il comune di Vallefoglia visti gli investimenti fatti negli ultimi anni negli impianti sportivi del territorio. E parliamo ora di calcio locale partendo dal campionato di eccellenza. L'Atletico Gallo è infatti stato sconfitto a domicilio dal Montefano Calcio per 1-0 perdendo punti dalla zona play-off. In promozione è tornato alla vittoria il capo a sport Montecchio che si è giudicato il match casalingo contro il Loreto per due reti a zero rimanendo agganciato alla parte alta della classifica. In piena zona play-off c'è il Valfoglia che davanti ai propri tifosi si è imposto sulla osimo stazione per 2-0 toccando così quota 42 punti a più 2 dal Montecchio. Nel campionato di prima categoria ottima prova di forza dell'Osteria Nuova che si porta a casa 3 punti anche dal campo della Vadese vincendo di misura per 2-1. Terzo posto in classifica raggiunto invece per l'Atletico Tavuglia che con la vittoria di sabato per 2-0 ai danni dell'Unano si porta a meno 2 dal primo posto. E con le notizie di sport si conclude questa nuova edizione delle Valle Foglie Pian del Bruscolo Magazine. Vi ringrazio per averci seguito. Vi rinnovo l'appuntamento a venerdì prossimo 22 di aprile. Vi auguro un buon proseguimento di serata e una buona Pasqua. Vi ringrazio per averci seguito.